A livello nazionale... Sarà il Teatro del Trionfo di Cartoceto ad ospitare venerdì 15 aprile la 35esima edizione del Premio Marche, gran galà del movimento boccistico marchigiano, che vivrà come di consitudine una parte della manifestazione all'insegna dei riconoscimenti ai campioni del 2015. L'evento è stato presentato alla stampa, la presenza, tra gli altri, del presidente del Comitato regionale della FIAB, Andrea Evangelisti, e del sindaco di Cartoceto, Enrico Rossi. Il nostro territorio, ha detto il primo cittadino, ha la fortuna di poter contare su una società come la bocciofila Lucrezia, che negli anni ha saputo distinguersi, non solo per gli eccellenti risultati sportivi, ma anche per la cura del settore giovanile. Una iniziativa che parte e che viene da lontano e che ormai rappresenta anche la storia di questa disciplina, cioè la disciplina delle bocce. Questa disciplina sportiva può rappresentare comunque un grande valore aggiunto per il territorio, può farlo anche in un target giovane, contrariamente a quello che si possa immediatamente pensare, cioè che la disciplina delle bocce è più strettamente collegata a persone adulte. E aggiungerei anche una cosa, è una disciplina sportiva in cui sono intrinseci valori dello sport molto, molto importanti. Aggiungere forse talvolta anche più importanti e più fondanti per una corretta educazione, soprattutto di quelle che sono le eleve più giovani, anche rispetto ad altre discipline. Al premio Marche, che avrà inizio alle ore 18.30 dopo il consueto cocktail di benvenuto a cura della proloco di Cartoceto e della bocciofila di Lucrezia, seguirà la festa dei campioni, con la premiazione degli atleti marchigiani vincitori di campionati nazionali nelle varie specialità e a squadre durante la stagione agonistica dello scorso anno. Sicuramente venne felici di ospitare questa iniziativa, tra l'altro in un posto meraviglioso come questo, il Teatro del Trionfo di cui ha Cartoceto appena restaurato, e viva la disciplina delle bocce e la 35esima edizione del premio Marche della FIB.